Vi avevamo lasciati con lo spettacolo offerto le Social Star ai quarti di finale eliminando il Crystal Palace rimontando da 6 a 2 a 6 e poi vittoriosi calci di rigori con il Super Bifaro oggi si gioca la semifinale, la seconda dell'Europa League in campo Social Star contro quelli del vecchio eliminati al primo turno di Champions contro i Sky Blues, l'altra semifinale che si è giocata venerdì con il risultato della vittoria del Crystal Palace contro lo Spollo Sermanias attenzione qua, subito Carlo Rossi attaccante di quelli del vecchio dunque in campo quest'oggi Social Star contro i pali Ciccio Coma sostituirei Marco Bifaro in difesa Ciamiello Posca che sostituisce proprio me Carlo Cuccaro indisponibile quest'oggi, c'è Posca a sinistra Rusconi, centrocampo con Izzo e Ricciardi in attacco Galliero Bacchina, c'è l'eroe dei quarti Perugi e Bobbi Amato il nostro trascinatore, eccolo là per quelli del vecchio, Miranda il solito tra i pali indisponibili Coppa e De Martino, c'è Camarda al centro e Santoro a destra a sinistra di Maria Cavallo, poi Carlo Rossi in attacco alle sue spalle Lalla e Balzano, occhio a Balzano qui sto all'ultimo minuto, palla lunghissima Ciccio Coma, ritmi subito molto bassi le due squadre che sono ancora in fase di studio qui Ciamiello cambia tutto, Rusconi arriva ma non prende la sfera Messa laterale per quelli del vecchio, con l'alla che si smarca Palla dentro, chiude, Galliero Ovviamente telecronica tifoso, essendo un membro dei Sociestar quindi sarà normale che sulterò i gol dei miei ragazzi, Maya Azzurra Anche nella scorsa edizione sono stati eliminati in semifinale perdendo poi anche il terzo e quarto posto Questa stagione però si può sognare, dato gli innesti di Bobby Amato e Ricciardi Ciamiello ha servito Ricciardi che prova ad avanzare, ancora Danielino, Ricciardi entra in area palla dentro e poi il tiro non va Itzo ha avuto sul destro l'occasione dell'1-0 per sobalzare l'Avion Itzo sfiora il primo gol con la maglia dei Sociestar Pazzesco, l'alla di petto sfortunato Itzo No Ciamiello spazza via Poi arriva Cavallo suo il gol che ha portato il trionfo nel girone della primavera Di Maria con un colpo di testa straordinario il gol verso il pareggio che poi è stato siglato da Carlo Rossi proprio nella sfida l'ultimo minuto contro la GDU Ciamiello scambia con Posca ancora Ciamiello tutto di prima il tiki-taka dei Sociestar sviluppato in allenamento Ricciardi prova a girarsi palla verso Ciamiello alza la testa prova l'imbucata non c'è un colpo di mano dice l'arbitro anche al contropiede Lalla Ricciardi su di lui palla nello spazio per Balzano fondo spazza Camarda poi pallone verso Lalla che punta Rusconi Rossi prova a girarsi Ricciardi su di lui allarga il pallone verso Cavallo che rientra occhio al destro Posca grande intervento che poi spazza via occhio a Galiero contropiede Ricciardi sulla sfera arriva Cavallo fallo su di lui già battuto Carlo Rossi arretratissimo forse lui il lago della bilancia di questa partita pensavo giocasse prima punta invece sta giocando molto arretrato mettendo Lalla praticamente come centra avanti occhio a questo schieramento tattico di quelli del vecchio potrebbero metterci in difficoltà occhio perché tra poco entra Bobbi Amato per noi Cavallo prova a uscire palla per Rossi occhio al destro uno che esce Rossi Ciccio Como e poi Posca Ciccio Como occhio che parte va Ciccio Como col destro fuori subito decisivo Ciccio Como occhio al Balzano sbaglia tutto poi Ricciardi palla che viene deviata proprio da lui forse anzi no l'ha rimessa per i soccer star occhio a Galliero che fa segno con la testa Ricciardi di andare in avanti palla però è lì indietro Lalla chiude intanto Bobbi doveva entrare invece si mette la casacca arancione sta sbagliando tutto cosa sta facendo non si capisce Ricciardi prova palla per Amato tocco di ritorno Ricciardi col destro 1-0 soccer star e la braccia di Cermiello ha segnato Ricciardi 1-0 batte Lalla col destro Ciccio Como lascia scorrere occhio perché ora la tattica è difesa contro piede qui sbaglia Ciccio Como palla dentro di Camarda occhio a Carlo Rossi Ciccio Como lo segue qui l'inserimento di Carlo Rossi dal centrocampo questa novità Ricciardi 1-2 con Perucci poi lo palla per Amato gran numero Amato sinistro rete 2-0 Bobbi Amato ma che intesa con Perucci straordinario l'1-2 clamoroso il parziale 2-0 Ciccio Como sul tiro di Carlo Rossi pazzesco non me l'aspettavo sinceramente un impatto così positivo di Perugi alla sua seconda presenza con la maglia dei Saci Star lui che ha vestito questa maglia l'anno scorso per tante partite poi si è ritirato a vita privata ora è tornato a dare spettacolo Ricciardi occhio due su di lui può allargare di qua e lo fa benissimo per Ciarmillo ha tanto spazio Perugi invita il movimento pallone però è intercettato Posca bello il passaggio per Ciarmillo ancora Amato mette giù poi palla dentro viene chiuso poi la sportellata di Camarda Balzano ancora Camarda si fa vedere Carlo Rossi occhio al destro Rossi putta Posca lo fa secco Ciccio Como spazza Ciarmillo si difendono i Sorce Star Lalla sul pallone la domestica chiude Ricciardi ma conquista anche il pallone poi però ancora Lalla esce Posca fondo palla per Ciarmillo il tocco centrale verso Ricciardi poi Amato con la sponda verso Perugi palla che esce fuori rimessa per i Sorce Star Ricciardi in aria prova a girarsi poi viene chiuso e Miranda blocca la sfera 2-0 il risultato per i Sorce Star Miranda lungo palla che tocca la rete Perugi dentro per Bobby Amato in aria chiude Camarda con il piedone rimessa la terra le Sorce Star Camarda in chiusura su Bobby Perugi con le mani palla per Bobby Amato si gira va col destro Miranda Carlo Rossi si gira Posca su di lui destro palla fuori Bobby Amato si gira prova il passaggio per Perugi salta Ciarmillo poi prova il destro Camarda non era male palla che esce rimessa laterale per quelli del vecchio Lalla mette giù sbaglia tutto occhio al Carlo Rossi prova a girarsi Ricciardi chiude se ne va ancora Ricciardi attenzione attaccato c'è fallo conquista un buon calcio di punizione Ricciardi palla per Perugi col destro esterno della rete Perugi ancora lui ci sta provando vuole la doppietta anzi scusate occhio a Ciccio Como su Carlo Rossi che poi prova il destro Ciccio Como fuori colpo di testa di cavallo occhio a Carlo Rossi fuori palla per Perugi salta Lalla tocco d'esterno poi Balzano occhio Carlo Rossi palo incredibile anzi è fuori è fuori è fuori ho sbagliato ho visto nulla mamma mia infatti si Ricciardi alza la testa serve Bobbi Amato prova a passare chiude Lalla poi Camarda grande intervento di Perugi occhio a cavallo dunque sostituzione per esaccessare palla dentro di Balzano posca fallo dice l'arbitro non so perché comunque sono entrati nuovamente Izzo e Galliero sono usciti Ricciardi e Ciarmello punizione per Carlo Rossi è uno schema Balzano parte il destro Ciccio Como col piedone Balzano ha provato una novità il tiro da fuori vediamo Lalla dalla bandierina palla dentro sempre 2-0 salta Rossi poi Balzano non arriva Amato prova a girarsi Santoro su di lui Amato perde il contatto col pallone Santoro per Balzano chiude Rusconi occhio al pallone in mezzo Amato cerca Perugi deve inserirsi Lalla sul pallone Perugi lo attacca arriva anche Izzo Perugi mette il destro chiudendo torna Perù rimessa la trale per Camarda occhio a Carlo Rossi contro Posca al duello saltato Posca Rossi sinistro e mezzo tutto solo Cavallo e Ciccio arriva Izzo poi Santoro dentro per Balzano saltato Rusconi poi però ancora pallone per quelli del vecchio che aumentano la pressione palla per Balzano chiude Izzo palla dentro salta Rossi poi Galiero spazza via ce la fa palla dentro per Amato controllo poi salta lalla calcione tutto regolare dice l'arbitro spazza il pallone in avanti Ciccio Como la tiene lì Posca aveva saltato due giocatori avversari poi troppo avanti Ciccio Como spazza via non è non è la uscita ti giuro mi sono lasciato prendere la tifoseria giustamente non era toccato non aveva toccato la rete quindi tutto regolare spazza via attenzione ora perché quelli del vecchio iniziano ad essere un po' nervosi sul risultato di 2 a 0 Bobbi Amato ha ricevuto dal portiere Ciccio Como prova a girarsi sale Galiero numero di Amato poi chiude quelli di del vecchio con le mani Miranda salta Galiero in qualche modo ancora deve tornare Galiero poi Rossi prova a girarsi Posca è scivolata ancora Posca e ancora Posca poi palla che passa a cavallo fuori Amato prova a girarsi va giù punizione punizione Ciccio Como traversa dei Socci e Star che stavano per fare il 3 a 0 intanto sono usciti Posca e Rusconi gran partita per entrambi fino a questo momento difesa blindata Carlo Rossi Ciarmielo è diventato il centrale della difesa Izzo a sinistra Galiero a destra Peruggi sempre a centrocampo con Ricciardi che ora riceve palla pallone per Galiero mette giù non deve rischiare palla per Amato sale Peruggi colpo di tacco arriva Lalla cerca la verticale bravo Galiero in chiusura occhio a Camarda palla per Santoro ancora Camarda non aggancia Rossi prova a girarsi occhio a Ciarmielo su di lui Rossi fitta sinistro Mura Ricciardi ancora lui poi Santoro chiude Peruggi 3 chiude Ciarmielo eccezionale la difesa di San Cesaro fino a questo momento l'inserimento di Santoro poi Cicciocomo in qualche modo è riuscito a salvare Ricciardi riesce a ripartire palla che esce fuori palla per Cavallo Chiarrossi Ciccomo Cavallo porta vuota rete 2 a 1 segnano quelli del vecchio abbiamo dato la battuta 2 a 1 il risultato quelli del vecchio tornano a farsi sotto attenzione due minuti alla fine del primo tempo attenzione può succedere di tutto col preso in contropiede dai Soccestar non erano organizzati difensivamente c'è qualcosa che non va con le manizzo Amato prova la sponda Cavallo prova a prenderla suo il gol 2 a 1 grande chiusura di Ricciardi che prova a ripartire cerca Amato provano a dialogare i due Ricciardi la fa scendere destro mira andà non trattiene c'è però nessuno poi gran chiusura di Izzo Cavallo allarga Balzano vediamo se prova fuori Ricciardi serve Perugi tocco per Galiero spazza in avanti risultato sempre 2 a 1 primo tempo ormai che si sta avviando alla fine Lalla con le mani salta Ricciardi benissimo poi Balzano ma ancora Ricciardi ovunque polmone della squadra poi si allunga la palla Cavallo in qualche modo spazza Izzo non è finita Santoro Balzano occhio a Rossi Cermiello due passi dietro palla dentro Cermiello Rossi qualche modo poi Camarda fuori finisce il primo tempo e sono Cesari in vantaggio 2 a 1 su quelli del vecchio Carlo Rossi batte Posca prende la palla e ce l'ha attenzione errore di Cermiello pareggio pareggio di quelli del vecchio pareggio clamoroso di quelli del vecchio appena iniziata la partita incredibile secondo tempo dunque che si avvia con il pareggio di quelli del vecchio tutta di fare per i Soccestare che avevano maturato un vantaggio di due reti a zero nel primo tempo 2 a 1 nel finale del primo 2 a 2 inizio del secondo dunque questa semifinale per ora ancora con equilibrio Ricciardi palla dentro Perizzo Miranda la fa sua i Soccestare sono entrati in campo con la formazione che è iniziato il primo quelli del vecchio sempre i stessi uomini con Balzano alto a sinistra per ora Ricciardi vince il contrasto poi rischia su Carlo Rossi che commette fallo ciccio come ci aveva provato dalla porta poi Miranda spazza via impazzito Miranda impazzito Miranda Izzo Ricciardi prova a girarsi palla per Galliero ancora Ricciardi chiude cavallo ha messo il piede cavallo cavallo ha messo il piede no Rusconi con le mani cerca lungo Izzo poi Ciamiello di testa Galliero cerca qualcuno non trova però il compagno Carlo Rossi occhio alle magie col destro ciccio come blocca il pallone cerca qualcuno ciccio come vediamo se prova direttamente in porta sbaglia però la conclusione occhio Carlo Rossi che entra in area sinistro in crocio clamorosa occasione per quelli di del vecchio Como per Ricciardi prova a girarsi chiude Santoro poi Posca esce benissimo due contrasti poi Camarda per Cavallo palla per Rossi che gira di testa palla fuori di nulla Ricciardi affrontato da Cavallo poi il passaggio in verticale chiude Camarda ancora Ricciardi palla per Izzo prova a girarsi Izzo cerca Ricciardi Galliero alza campanile palla fuori Rossi Ricciardi chiude poi Galliero palla per Ricciardi occhio a Ricciardi può partire salta il primo Ricciardi abbassa la testa prova il pallone dentro fuori occhio dunque sono entrati Amato e Perugi sono usciti Izzo e Galliero attenzione a Posca che arriva su questo pallone poi sbaglia attenzione Ciamiello riesce a chiudere Ricciardi resiste cerca Bobby Amato il colpo di tacco ancora per Ricciardi l'intervento di Lalla a chiudere rimessa la torre per i soci di stare alla palla per Amato spazza Balzano Santoro sul pallone Posca ultimo uomo attenzione al controllo di palla ciccio a chiudere prova direttamente porta un missile Miranda la tiene lì in due tempi poi Miranda in avanti Rusconi colpetto c'è Perugi Rusconi sbaglia tutto torna Rusco Carlo Carlo Rosso Posca su di lui palla dentro salta Ciamiello benissimo poi Ricciardi cerca ma non trova Bobby Amato Lalla attenzione palla che esce rimessa la torre per Santoro per quelli di El Vecchio due a due risultato cerca Cavallo poi palla che rimane lì Cavallo gira palo mamma mia poi Ricciardi prova a uscire palla al piede salta Carlo Rossi ancora Ricciardi se la allunga e non la tiene in campo Perugi anzi Rusconi con il destro poi Carlo Rossi grande chiusura di Posca Ricciardi che sta correndo ancora una volta dappertutto cerca Amato palla che non passa Camarda in angolo Rusconi dalla bandierina occhio a Peruginaria palla però viene battuta da Ricciardi Ricciardi dentro non arriva però Perugi Rossi che prova col destro palla fuori sempre due a due risultato Amato prova l'intesa con Daniele Ricciardi Amato perde la sfera non c'è fallo Rusconi esce bene due volte ancora Rusconi che lo deve attaccare poi la palla esce la rimessa sarà per i Soccer Star Ricciardi per Bobbi Amato alza la testa prova col destro Miranda Amato prova a girarsi cerca Ricciardi non lo trova ancora Amato palla per Ricciardi ancora Amato non passa la sfera ma ancora Amato carica la testa al basso al suo avversario palla dentro colpo di tacco arriva Ciarmiello col sinistro la dà Ricciardi può provare non fa poi ancora Rusconi attacca ora la formazione di San Cessaro Rusconi perde il contrasto arriva Peruggi scivolata ancora Camarda Posca lascia Cicciocomo che chiama la palla ancora Cicciocomo prova provare il tiro sbaglia attenzione Cicciocomo non sembra in gran forma più portiere che giocatore di movimento quest'oggi Cicciocomo qui fallo anzi no c'è rimessa laterale rimessa laterale c'è con le mani salta Lalla poi Izzo palla per Galiero cerca Amato non lo trova Rusconi prova a uscire Camarda col destro palla fuori Amato prova a saltare Camarda palla che però gli rimbalza male la rimessa ancora per quelli del vecchio nervoso Bobbi Amato perso il contrasto problemi per Posca infortuna una caviglia allora Rusconi passa difensore centrale Galiero a destra Ricciardi torna in campo palla viene colpita da Galiero Rossi contro Rusconi arriva bravo Galiero mette fuori sempre 2 a 2 non ci sono stati gol negli ultimi minuti attenzione Cicciocomo che esce occhio a Cicciocomo e Miranda la tiene lì poi Bobbi Amato in pressione il sinistro di Miranda palla in avanti è pescato anche Cavallo no fuori Galiero con le mani cerca Bobbi Amato prova a girarsi Amato Amato per Ricciardi Ricciardi per anzi nessuno prova con la punta fuori di nulla pazzesco occhio a Carlo Rossi in area di rigore 2 suddili Carlo Rossi Rusconi si siede a terra Ricciardi in qualche modo ancora Carlo Rossi contro 3 sinistro Murato arriva Cavallo e Ricciardi poi colpo di testa ancora di Ricciardi Bobbi Amato mette giù cerca ancora Ricciardi il controllo però non è perfetto Rusconi in avanti Perugia a lunga rimessa laterale per quelli di Del Vecchio tanta corsa per i successari quest'oggi quelli di Del Vecchio sembrano comunque in difficoltà forse le assenze di De Martino e Coppa sono più pesanti di quanto sembrava attenzione palla alta Balzano al volo fuori Cicciocomo palla a cercare Bobbi Amato non aggancia una palla deliziosa di Cicciocomo Galliero palla a Balzano cerca qualcuno occhio Rusconi in qualche modo Balzano con le mani cerca Carlo Rossi che prova a girarsi occhiale trattenute palla a cavallo colpo di testa Ricciardi su di lui ancora cavallo in mezzo a due grande chiusura di Perugia poi Amato difende la sfera Bobbi Amato prova a partire tre su di lui arriva ancora Ricciardi Perugia l'appoggio per Izzo intelligente poi ancora Perugia avanza vediamo se prova Perugia finta Perugia Amato si gira col destro debole poi palla che rimbalza su Camarda che spazza via Ricciardi attenzione uno contro uno Balzano per Carlo Rossi Rusconi ultima speranza arriva Ricciardi e ci salva in questo modo occhio al sinistro di Lalla in area di rigore lasciato tutto solo palla fuori Cicciocomo vediamo se ha ancora il pallone per Amato il controllo poi il sinistro attenzione la gamba tesa punizione in due dunque gioco pericoloso di cavallo calcio di munizioni in area di rigore per i successari Ricciardi Amato sul pallone concentrazione per Bobbi Amato vediamo se fischia l'arbitro fischio che avviene ora Amato finta poi sinistro volete Bobbi Amato 3 a 2 successari in vantaggio cambia il parziale all'Avion batte Rossi col destro deviazione Cicciocomo la tiene lì occhio ad Amato tutto solo arriva Ricciardi tocco per lui Lalla chiude parte Lalla occhio alla pressione Balzano prova a saltare il suo avversario grande intervento di Cermiello poi Galiero spazza via Miranda prova salta Ricciardi occhio a Cicciocomo che la tiene lì alza la testa Cicciocomo vediamo se lancia Bobbi Amato palla per Amato che si gira destro rete 4 a 2 social star Bobbi Amato attenzione perché manca più o meno 6-7 minuti incredibile l'assist di Cicciocomo sai cos'è parte Carlo Rossi Barriera poi Rossi ancora Ricciardi su di lui viene tirato poi va giù tutto regolare vediamo un po' 4 a 2 risultato 5 minuti alla fine l'impresa dei social star sempre più vicina Carlo Rossi col destro Barriera Ricciardi riesce a uscire Camarda palla dentro salta Perugi poi Cermiello ancora Cermiello in qualche modo Ricciardi in avanti palla per Amato Amato si gira Amato dentro Ricciardi col destro anzi no non riesce a tirare poi col destro Ricciardi sembrava gol palla fuori calcio d'angolo la parata di Miranda pazzesco tocco corto Amato prova a saltare il suo avversario chiuso Ricciardi in aria poi Amato salta palla che arriva da remani di Miranda che cerca qualcuno spazza il pallone in avanti Carlo Rossi colpetto per Lalla sistema il pallone sul sinistro poi grande intervento di Perugi palla grandissima per Ricciardi Ricciardi murato poi difende va giù punizione e sarà dunque punizione per Isocestare batte Ricciardi attenzione c'è giallo per Lalla Ricciardi sulla punizione palla dentro Amato non arriva Ricciardi palla per Amato che gira palla che esce fuori con le mani Galliero poi Ricciardi palla che esce 4-2 risultato prova a partire Balzano Amato chiude Amato gira numero passa Amato poi Lalla riesce a chiudere sempre 4-2 risultato sciocca L'Avion pazzesco contro ogni pronostico i Soccestare sono in vantaggio per 4-2 attenzione Ciccio Como mette giù occhio al destro lo prova fuori occhio qua ancora Ciccio Como che prova direttamente dalla porta fuori va col destro cavallo Ciccio Como attenzione perché c'è Amato tutto solo lì davanti come lo vede palla per lui col destro Santoro poi Galliero mette fuori Balzano Lalla chiude Ciarmiello palla per Carlo Rossi che prova a girarsi Lalla dentro Rossi cerca spazio chiude Ricciardi e riparte Ricciardi velocissimo Ricciardi Ricciardi e poi Amato 5-2 Bobbi Amato 5-2 pazzesco all'Avion l'impresa la favola di San Cesaro non finisce qui sarà finale contro il Cristal a questo punto Peruggi tocco dentro arriva Carlo Rossi palla per Lalla Lalla finta destro Lalla sul fondo occhio a Lalla dentro poi palla che arriva Carlo Rossi ma Ciarmiello chiude ancora Ricciardi se ne va Ricciardi finisce così cade la formazione di quelli del vecchio i Socce Star sono in finale di Europa League di lalla di lalla di